ciao a tutti questo è il podcast di pagella politica io sono tommaso canetta io sono federico ronzato nella puntata di oggi ci occupiamo per prima cosa delle elezioni amministrative e in particolare di quelle comunali previste per quest'ottobre 2021 poi parleremo rapidamente del referendum sulla cannabis che rischiava di saltare per questioni burocratiche ma alla fine sia tutto risolto per il meglio e vedremo quali castronerie ha detto la oramai celebre vicequestore no green pass nunzia alessandra schilirò ultimo argomento della sezione politica le parole di draghi sul pnr è vero oppure no che finora l'italia non ha bucato nemmeno una scadenza nella rubrica di debunking tratteremo invece della protesta quasi non pervenuta tranne che sui social come vedremo dei camionisti contro green pass e nella sezione di scienze medicina affronteremo il tema delle terze dosi di vaccino covid ma come detto partiamo dalle elezioni registriamo questa puntata il venerdì primo ottobre quindi stiamo rispettando la normativa sul silenzio elettorale in quasi tutta italia si vota al primo turno il 3 e il 4 ottobre e per l'eventuale ballottaggio il 17 e il 18 segnaliamo però che in sicilia sardegna e trentino alto adige il voto per i comuni è spostato di una settimana in avanti ma vediamo adesso insieme a federico gonzato un po di numeri di queste elezioni innanzitutto quanti comuni sono coinvolti e quante persone sono interessate da questo voto ciao tommaso allora le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre andranno al voto circa 1350 comuni dei quali 20 sono capoluoghi di provincia e di questi 6 sono capoluoghi di regione stiamo parlando di roma milano napoli torino bologna e trieste dunque quelle di ottobre saranno delle elezioni nelle quali verranno coinvolti tanti elettori circa 15 milioni noi abbiamo concentrato la nostra analisi sui capoluoghi di provincia e in queste città che sono per l'appunto 20 abbiamo contato più di 160 candidati sindaco sì 1350 comuni sono alla fine quasi un sesto dei quasi 8 mila totali e 15 milioni di abitanti sono un quarto della popolazione quindi si tratta di elezioni che hanno sicuramente una come si dice valenza nazionale però andiamo anche un po ad alleggerire la puntata perché oltre ai numeri sono anche interessanti le storie quantomeno alcune storie di questi candidati federico so che hai raccolto in un articolo le vicende di un po di aspiranti sindaco diciamo eccentrici e anche un po di situazioni politicamente curiose raccontacene qualcuna sì tommaso queste elezioni comunali ci riservano alcuni candidati molto particolari e devo dire anche delle alleanze alquanto inedite rispetto agli schieramenti che siamo abituati a vedere a livello nazionale basti pensare che a proposito di candidati stravaganti a roma c'è questo sergio jacomini che è un ex dipendente della banca d'italia e che si candida con il movimento storico romano un gruppo di nostalgici della roma antica che dagli anni 90 propongono spettacoli a tema per rievocare i fasti del passato il loro programma è costellato di proposte che dire bizzarro e riduttivo cito solo l'idea di riproporre le corse delle bighe al circo massimo ma oltre a jacomini c'è anche un certo giuseppe cirillo detto dottor seduction che guida il partito delle buone maniere lui è un sessuologo e non è nuovo alla politica dato che è già stato candidato alle elezioni regionali in umbra in campagna ottenendo davvero scarsi risultati cirillo è molto attivo su instagram e qui dispensa consigli sul corteggiamento e tra le sue proposte per roma c'è quella di consegnare i cittadini delle strisce pedonali portatili da usare all'occorrenza quindi quando mancano quelle vere sulla strada oltre a queste figure un po' bizzarre ci sono anche delle considerazioni politiche però da fare perché in alcuni capoluoghi di provincia sono state fatte delle alleanze fuori dagli schemi a cui siamo abituati penso a carbonia in sardegna dove il movimento 5 stelle si è alleato con il partito comunista italiano contro la lista del pd oppure come esernia dove la destra è divisa e il candidato sindaco di fratelli d'italia è stato prima consigliere regionale dell'italia dei valori e poi dirigente del pd molisano sì diciamo che poi la politica quando si scende a livello locale non è nuova compromessi alleanze quanto meno strane o non ortodosse tra l'altro vedendo tutti i candidati sindaco nei capoluoghi di provincia abbiamo potuto anche verificare come la frammentazione dell'estrema sinistra sia una moda che non è passata abbiamo il partito comunista italiano il partito comunista il partito comunista dei lavoratori che spesso corrono separatamente e abbiamo visto anche in realtà un proliferare di nuove liste sovraniste come dire al di là dei partiti storici classici ritenuti su posizioni sovraniste proprio liste sovraniste come itale exit di paragone ma anche un'altra lista che mi sembra si chiami riconquistiamo l'italia e anche diverse liste novax la più famosa è quella del movimento 3v ma candidati di area novax diciamo che ne abbiamo ne abbiamo riscontrati parecchi nelle liste dei capoluoghi di provincia ma prima di lasciarti libero federico vorrei tornare un po' ai nostri amati numeri che per carità saranno anche un po' noiosi da guardare soprattutto se devi guardare tutti i candidati di tutti i partiti in tutti i comuni capoluogo di provincia ma poi da questo lavoro noioso di analisi vengono fuori a volte delle cose interessanti in questo caso per esempio abbiamo visto che sui temi della presenza di giovani e di donne in politica anche queste elezioni amministrative di autunno 2021 sono fonte di depressione spiegaci un po' il perché sì tommaso possiamo proprio dire che quelle di ottobre non sono elezioni per candidati sindaci giovani e donne perché nei capoluoghi di provincia su più di 160 candidati le donne non sono nemmeno il 20 per cento addirittura ci sono città in cui non si presenta nessuna candidata sindaco donna come a novara caserta a isernia savona grossetto e benevento per fortuna ci sono anche dei capoluoghi dove c'è anche più di una candidata sindaca questo è il caso di trieste che ha tre candidate su dieci pretendenti o di salerno con tre candidate su nove sempre parlando di candidature femminili è interessante notare come le poche donne candidate non sono quasi mai sostenute dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra fa eccezione carbonia in sardegna dove qui il centrodestra sostiene la candidatura di daniela garau il discorso che abbiamo fatto a proposito delle candidature femminili vale anche per i candidati giovani perché dalle nostre verifiche è emerso che gli under 40 candidati sindaco nei capoluoghi di provincia che voto sono solo 22 su più di 160 candidati circa il 13 per cento e anche in questo caso le città in cui i giovani candidati sindaco sono sostenuti dalle coalizioni di centrodestra o centrosinistra sono una netta minoranza sì insomma possiamo dire che le percentuali di donne e di giovani e poi tra l'altro bisogna considerare che a volte sono le stesse persone cioè magari è una donna con meno di 40 anni sono veramente scoraggianti come dicevi tu il 18 per cento circa di donne il 13 per cento circa di under 40 e oltretutto spesso candidati di liste che non hanno particolari chance di vittoria almeno secondo i sondaggi le coalizioni principali di centrodestra e centrosinistra come ricordavi tu hanno candidato giovani o donne davvero in una minoranza dei casi grazie allora a federico gonzato restiamo in tema di elezioni anche con davide leo che invece ci racconta un po perché vincere al primo turno non è garanzia di successo all'eventuale ballottaggio allora ciao davide ti chiedo per prima cosa quanto è diffuso questo fenomeno appunto di arrivare primi al primo turno e poi perdere il ballottaggio e poi quali sono stati i ribaltoni più clamorosi degli ultimi anni e ciao tommaso allora abbiamo abbiamo controllato i risultati delle elezioni nelle cinque principali città al voto cioè Roma Milano Napoli Torino e Bologna e dal 1993 cioè da quando c'è l'elezione diretta del sindaco ad oggi ci sono stati sei ribaltoni in pratica in media una volta su cinque tra quelli storici ricordiamo Alemanno a Roma nel 2008 che vinse contro Rutelli al ballottaggio dopo aver perso di cinque punti il primo turno De Magistris a Napoli nel 2011 che per i sondaggi all'epoca era dato addirittura come terzo classificato ed era sotto al primo turno di undici punti quando poi riuscì a ribaltare tutto al testa a testa il ribaltone originale però fu quello di Bologna nel 1999 quando il centrodestra riuscì a mettere fine a 54 anni di eh governo della sinistra con Giorgio Guazzaloca che al primo turno arrivò secondo eh dopo la dopo la grande favorita che era la candidata dell'ulivo e poi riuscì a vincere al ballottaggio quindi appunto questi ribaltoni non sono così così rari un'eccezione in questo senso però è Milano eh in cui dal novantatre ad oggi che ha vinto al primo turno è riuscito sempre a riconfermarsi e ad arrivare a Palazzo Marino sì sono sempre fenomeni molto interessanti anche perché poi di volta in volta secondo me cambiano anche un po' i motivi per cui al primo turno magari il candidato favorito poi perde al secondo turno c'è stata una stagione in cui gli elettori per esempio di recente gli elettori dei 5 stelle non votavano per il candidato di centrosinistra e questo allo scorso giro di amministrative aveva avuto delle influenze nei ballottaggi andando più indietro del tempo c'erano state delle fratture a sinistra che avevano portato ad astenersi magari gli elettori di rifondazione comunista insomma di volta in volta ci sono sempre dei fenomeni sia storici che locali che vanno a influire su questa dinamica del del ribaltone al secondo turno ma passiamo adesso ai prossimi argomenti della nostra puntata eh prima di occuparci del vicequestore schilirò e di alcune sue affermazioni sbagliate a proposito di vaccini e covid 19 faccio proprio una breve parentesi sul tema del referendum cannabis a cui abbiamo dedicato di recente la nostra puntata ehm qualche giorno fa era scattato l'allarme perché nonostante i promotori avessero raccolto ben più di 500.000 firme che sono quelle necessarie eh grazie allo speed il sistema pubblico di identità digitale non le potevano depositare in cassazione senza che i comuni inviassero per ogni firma il certificato elettorale relativo ora i comuni non stavano riuscendo a inviare tutti i certificati necessari e la mole di lavoro che richiede questa operazione è significativa e oltretutto abbiamo detto ci sono anche in ballo le elezioni in molti comuni e quindi c'era il concreto pericolo che alla scadenza prevista per il deposito delle firme in cassazione cioè il 30 settembre il referendum inciampasse su questo problema con oltretutto probabili strascichi giudiziari ecco su questa situazione è intervenuto il governo che per decreto ha concesso al referendum sulla cannabis la stessa estensione dei termini che aveva accordato ai referendum su eutanasia e giustizia quindi la scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre in considerazione in particolare dell'emergenza covid i comuni quindi adesso dovrebbero avere tutto il tempo necessario per fare la propria parte e inviare questi certificati elettorali per ogni firma raccolta con lo speed dai promotori e molto probabilmente il referendum ci sarà anche se poi bisogna appunto aspettare la decisione di cassazione corte costituzionale ma e vado a concludere nel futuro avremo sempre questo problema del troppo lavoro per i comuni a fronte di firme raccolte con lo speed ecco la risposta è per fortuna no ora siamo in una situazione di regime provvisorio questa novità delle firme raccolte con lo speed recentissima è di luglio ma quando sarà data attuazione definitiva alle norme varate dal parlamento e predisposte dal governo ci sarà una piattaforma dove firmare che raccoglierà tutti i dati necessari per appunto avere una firma valida online senza bisogno che i comuni si facciano carico di lavoro extra veniamo adesso al vicequestore alessandra nunzia schilirov davide il vicequestore nei suoi dieci minuti di intervento alla manifestazione no green pass a roma di cose ne ha dette parecchie dal fatto che viviamo in un momento storico cito di una gravità senza precedenti alla citazione di gandhi secondo cui la disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo stato diventa dispotico o corrotto dal green pass che viene definito dal vicequestore tessera di discriminazione o addirittura marchio di discriminazione al fatto che il virus e cito di nuovo tra virgolette pericolosissimo e potentissimo che gira in italia si chiama paura ecco ora noi di queste cose che abbiamo riportato per dovere di cronaca non ce ne occupiamo sono sue opinioni e ognuno le può giudicare come crede anche se riportiamo che ad esempio il ministero dell'interno le ha giudicate gravissime e pare che siano in arrivo delle sanzioni per la poliziotta noi qui ci occupiamo invece di alcune cose verificabili che ha detto schilierò due in particolare una in ambito giuridico e l'altra in ambito scientifico ora per l'analisi delle sue altre affermazioni verificabili perché mica solo queste due ne ha dette di cose sbagliate vi rimandiamo all'articolo integrale pubblicato su www.pagellapolitica.it ma adesso occupiamoci di queste due in particolare e partiamo dall'ambito giuridico e ascoltiamo che cosa dice il vicequestore schilierò su un tema che abbiamo già affrontato spesso in passato quello del famoso articolo 36 peccato che il green pass italiano sia assolutamente illegittimo perché viola l'articolo 36 del decreto 953 dell'unione europea istitutivo del green pass ora quest'articolo 36 viene tirato fuori sempre dai novax e lo preciso secondo loro vieterebbe la discriminazione dei non vaccinati e quindi renderebbe illegittimo il green pass ecco davide spieghiamo ancora una volta perché questa è una cavolata assoluta allora intanto vanno precisate due cose prima di tutto quello dell'unione europea non è un decreto ma è un regolamento e poi non esiste comunque nessun articolo 36 perché gli articoli di questo regolamento in totale sono 17 è invece un considerando che non ha nessuna forza giuridica e serve solo per aiutare l'interpretazione di alcune norme comunque il vero punto della questione è che questo considerando dice che non si può discriminare il non vaccinato circa l'accesso al green pass cioè che significa che se non sei vaccinato ma hai il tampone oppure sei guarito allora lo stato ti deve poter dare il green pass e quindi in nessun modo dice che gli stati non possono collegare al possesso del green pass determinate attività come quella lavorativa che appunto verrà collegata al green pass in Italia dal 15 ottobre sì e poi oltretutto che sia un vicequestore quindi un tutore della legge a commettere questo errore che francamente lascia davvero allibiti veniamo invece a un'altra questione su cui come dire magari invece è legittimo che un vicequestore sia più ignorante ma su cui purtroppo di nuovo è stata fatta moltissima disinformazione che sembra abbia quantomeno contagiato anche Schilirò ascoltiamola di nuovo un certificato che non ha alcuna base scientifica e questo ce lo dicono dati reali dati che arrivano dai media d'Israele, d'Islanda, dell'Australia dati che ci dicono che i vaccinati si ammalano contagiano e a volte si ammalano anche gravemente come tutti gli altri ecco Davide questa cosa che i vaccinati si ammalano anche gravemente come i non vaccinati è proprio una colossale stupidata i nostri ascoltatori ormai lo sapranno perché abbiamo dato i numeri oramai cento volte ma ribadiamo il concetto ancora una volta in sintesi ovviamente è vero che anche i vaccinati possono ammalarsi e possono contagiare però in generale bisogna dire che i vaccini proteggono bene dall'infezione e proteggono benissimo dal ricovero dalla terapia intensiva addirittura dal decesso Israele poi come al solito viene citato a sproposito perché guardando i numeri è importante guardare all'incidenza e non al valore assoluto facciamo un esempio veloce se su mille vaccinati ne muoiono 11 e su 20 non vaccinati ne muoiono 10 in assoluto il numero dei morti sarà più alto tra chi ha fatto il vaccino ma questo ragionamento ovviamente non ha senso perché in un caso l'incidenza è dell'1,1% mentre nel secondo è addirittura del 50% anche riguardo all'Australia gira un dato sui decessi che è una bufala perché si spacciano i morti dopo il vaccino per morti a causa del vaccino ma come abbiamo appunto detto molte molte volte questo dato è totalmente sbagliato sì infatti perché sulla questione di Israele lì la popolazione soprattutto con una certa età è in larga maggioranza vaccinata è ovvio che in numero assoluto i decessi e i recovery in terapia intensiva siano di più tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati tra l'altro è una cosa che di recente mi sembra sia successa anche in Italia dove in base agli ultimi report dell'Istituto Superiore di Sanità si è visto questo sorpasso in numeri assoluti ma guardare i numeri assoluti come dicevi giustamente non ha alcun senso bisogna guardare all'incidenza e sull'Australia allo stesso modo guardare questi dati che vengono tra l'altro citati costantemente dall'europarlamentare della Lega Donato in tv sul fatto che ci sarebbero migliaia di decessi che vengono riportati dal sistema europeo di sorveglianza ecco bisogna però specificare che vengono riportati come successivi non come collegati e anzi bisogna tenere in considerazione che anche prima che esistesse la Covid-19 persone anziane in condizioni di fragilità morivano giovani in buona salute avevano per fortuna con un'incidenza statistica bassissima casi di trombosi o altre malattie bisogna vedere come questi numeri sono stati modificati prima e dopo in realtà quello che ci dice la scienza è che una minoranza piccolissima di questi decessi successivi al vaccino è in realtà collegato al vaccino quindi appunto si spacciano dei numeri che dicono una cosa per in realtà dargli un significato completamente diverso ma chiudiamo adesso la nostra sezione dedicata alla politica con il presidente del consiglio Mario Draghi ascoltiamolo direi che questo governo non ha finora mancato una sola data per gli appuntamenti quindi finora ha un pochino di credibilità per quanto concerne l'esecuzione dell'accordo che noi abbiamo sottoscritto insieme alla Commissione Europea per il PNRR Allora Davide domanda quasi secca è così oppure no? Sì è così però è davvero troppo presto per fare i bilanci perché per ora è stato relativamente facile rispettare le scadenze perché nei primi tre trimessi del 2021 ne avevamo dieci da rispettare il bello però viene adesso perché da qui a fine anno abbiamo ben 41 scadenze da rispettare e quindi sarà quello il vero banco di prova del governo 41 scadenze dopo questo turno di amministrative di cui abbiamo parlato con alcune questioni che i nostri ascoltatori sapranno sono state sollevate negli ultimi giorni sia che riguardano la Lega con il caso Morisi che la sinistra con Mimmo Lucano che Fratelli d'Italia con l'inchiesta di fanpage e oltretutto anche con la corsa per il Quirinale che andrà ad aprirsi poi all'inizio dell'anno prossimo diciamo che il governo dovrà davvero dare una grande prova per rispettare tutte queste scadenze e noi ovviamente saremo qui a verificare e a rendervene conto grazie ancora Davide Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici FACTA è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usate per ascoltare podcast il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Tommaso Canetta Davide Leo Federico Gonzato Camilla Vagnozzi e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci io sono Tommaso Canetta e questo era il podcast di Pagella Politica